Presidio sul territorio e capacità di ascolto ancor più incisive. Questi i principi alla base della nuova sede del sindacato Will delle Marche che è stato inaugurato oggi a Pesaro in via Togliatti alla presenza del sindaco Matteo Ricci e del segretario nazionale della Will Pierpaolo Bombardieri. Una presenza a Pesaro che dà un'ulteriore sottolineatura alla necessità sindacale di rimboccarsi le maniche in tema di occupazione e blocco dei licenziamenti. Noi riteniamo che mai come in questo momento ci sia bisogno di sindacato. Noi ci siamo per essere vicini alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dei tanti pensionati. Questa è una sede che si apre in un quartiere popoloso, pieno di persone, proprio perché questo deve fare il sindacato. Deve aprirsi alle persone, che siano lavoratori e cittadini. Questo è un momento difficile. Cominciamo a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, però è un momento in cui bisogna essere coesi, ripartire insieme con un progetto preciso per l'Italia, ma per il nostro territorio. Dovremmo combattere la disoccupazione, dovremmo rivedere quello che è anche proprio l'assetto del nostro tessuto produttivo. Quindi ci deve essere una grossa progettazione, perché le risorse dell'Europa, del Recovery Plan, anzi della Next Generation, diventino un volano per la crescita. Noi come Will ci siamo, ci siamo con l'apertura delle sedi nel territorio, ci siamo con il nostro impegno quotidiano. Bombardieri a Pesaro ha pubblicamente enfatizzato quanto sia fondamentale ampliare la capacità d'ascolto del territorio e quanto la Will sia attualmente all'opera nei tavoli di confronto col governo Draghi a tutela dei lavoratori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.